Eccoci qua, eccoci qua a parlare di Nandez, ancora una volta, se non vi eravate stufati adesso potete farlo perché sono 2-3 anni che vi dico sempre le stesse cose E sono anche un incoerente perché avevo detto su Instagram che non avrei fatto il video su Nandez, ma lo facciamo perché dobbiamo parlare anche di altro e quindi ci mettiamo in mezzo pure Nandez E di un problema maggiore dobbiamo parlare che è il problema dell'attacco, ovviamente avete cliccato il video per Nandez quindi ve lo subite alla fine del video Adesso ascoltatevi anche questo problema che va affrontato perché al momento abbiamo solamente Petagne e Pavoletti in attacco Quindi bisogna urgentemente trovare una soluzione e un compromesso Prima di iniziare il video ragazzi, mi scuso, lo so, ho fatto un errore, ho detto Zirkze, 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 occhio a Zirkze Ho fatto un discorso di 3000 minuti nello scorso video, Zirkze non gioca Cagliari-Bologna perché è squalificato Quindi bisogna stare ugualmente attenti, ugualmente perché Ferguson è un giocatore pericolosissimo che ha segnato diversi gol Ma anche il Bologna in generale è una squadra che gioca bene quindi a prescindere da Zirkze che tra l'altro in queste ultime partite non sta neanche facendo bene Quindi non è un giocatore informissima come poteva esserlo un mese fa E quindi bisogna stare ugualmente attenti perché il Bologna è una squadra veramente insidiosa E non nascondo che sarei contento anche di un pareggio perché il Bologna è veramente pericoloso Però ragazzi siamo il Cagliari, vogliamo i tre punti quindi bisogna lottare per quello Perché se lo temo per il pareggio l'andiamo solamente a perdere Detto ciò, problema attacco Perché abbiamo solamente Petagne, Pavoletti, Shomurdov e Infortunato L'Ufumbo è partito in Coppa d'Africa e quindi salterà anche la partita contro il Bologna E poi abbiamo la Padula Infortunato e Oristanio che si è appena infortunato e starà fuori almeno due mesi Quindi c'è un problema serio perché i nostri due migliori giocatori della Rosa finora Oristanio e Lufumbo sono andati via Uno in Coppa d'Africa e l'altro infortunato E adesso ci ritroviamo con due attaccanti Di cui uno segna e tutto quanto ma non può giocare 90 minuti che è Pavoletti Mentre l'altro non segna, può giocare 90 minuti ma non segna neanche con le mani che è Petagna Quindi chi è che segnerà contro il Bologna? Questa è la vera domanda Io sarei optato più a giocare con una sola punta che è Petagna E puntare sugli inserimenti dei centrocampisti Per esempio un Alessandro De Iola della situazione E tantissimi altri ma anche l'incursione degli esterni Un 4-5-1 secondo me sarebbe l'ideale Con Petagna perché con Pavoletti è un discorso diverso Pavoletti ha bisogno di sostegno in attacco Ma un Petagna che non gioca da vera e propria prima punta Ma che gioca con la squadra Crea spazi Fa sportellate È l'ideale un modulo del genere Considerando che Pavoletti, ripeto I 90 minuti non ce l'ha nelle gambe Ed è molto più impattante, più decisivo nel secondo tempo Quando subentrerà Quindi questa secondo me è la formazione che dovrà essere adottata in questa partita Però adesso parlando di cose un po' importanti Non è che abbiamo solamente Petagna e Pavoletti Il problema è che per Ranieri ci sono solamente Petagna e Pavoletti Perché Pereiro, ad esempio, è adesso in stand-by Pereiro alla Ternana Perché era quasi fatta Pereiro doveva andare in prestito per sei mesi in Serie B Ma a quanto pare è adesso in stand-by Perché c'è un problema serio e urgente in attacco Che va risolto Magari rinviare il trasferimento di Pereiro di una o due partite Quindi magari a fine gennaio Pereiro sarà un giocatore della Ternana Non lo so Però sinceramente Allora, adesso parliamo anche di Pereiro Pereiro non è un giocatore che non ha qualità Il problema di Pereiro è che entra in campo svogliato Cioè è evidente che il Cagliari non è il giusto ambiente per lui È evidente che il Cagliari non crede nelle sue potenzialità E non ci ha mai creduto Perché Pereiro non ha mai giocato più di una partita da titolare È sempre subentrato È un giocatore a cui il Cagliari non ha mai fatto affidamento Ha avuto tanti di quegli allenatori Pereiro Walter Zenga Forse anche C'è passato addirittura di Francesco Forse Maran Chi più ne ha più ne metta Però Pereiro non è riuscito a far breccia Nei cuori di tutti gli allenatori che ha avuto al Cagliari Ok E quindi Pereiro doveva già essere venduto tra l'altro d'estate Secondo me Nonostante a me piaccia come giocatore E ci sono affezionato per un discorso che Nel video di Cagliari-Bologna avevo pronostrato Poi vabbè non ho registrato perché avevo i guanti E per sbaglio si è tolta la registrazione Però avevo pronosticato 5 secondi prima del gol E appunto il gol è di Gatto Gaston In Cagliari-Bologna è finita 2-1 E sono rimasto affezionato per quel motivo Poi è un giocatore che ha fatto intravedere sprazzi Delle sue grandi qualità e grandi potenzialità Però è un giocatore che non si è mai contraddistinto Un giocatore che non si è mai applicato effettivamente al Cagliari Quindi è un giocatore che andrebbe venduto E che soprattutto deve cambiare aria a titolo definitivo Proprio me lo dico per il suo bene Perché gli voglio veramente bene È un giocatore che in altre realtà secondo me spaccherebbe il mondo Però al Cagliari purtroppo Voi per dei meriti del Cagliari Voi per dei meriti soprattutto suoi Legato all'impegno e tutto quanto Non è mai riuscito a esprimersi come avrebbe dovuto Fatto sta che adesso c'è un'emergenza Cioè perché non tenere Gaston Pereiro Convocarlo e eventualmente farlo anche giocare Perché a partita del corso Pereiro potrebbe essere devastante A parte che in Serie A non gli ha mai dato un'occasione Adesso parlo con Claudio Ranieri Non gli ha mai dato un'occasione È vero che le sono state date tantissime nel corso di questi quattro anni Forse che ha il Cagliari Che è un tesserato del Cagliari Calcio Però in questa stagione non gli è mai stata data una vera e propria chance Ha fatto due presenze in Coppa Italia Di cui una di mezz'oretta Contro il Milan in cui ero presente allo stadio Avrà fatto 25 minuti Comunque non è che abbia disputato grande minutaggio O comunque ad esempio contro il Milan Non è stato messo in grandi condizioni di poter fare bene Poi vabbè ragazzi io sono un po' di parte adesso Perché comunque Gaston Pereiro Ripeto è entrato nel mio cuore Però d'altro canto Adesso oggettivamente parlando C'è un'emergenza seria in attacco Che va risolta Va tappato il buco nell'immediato E la scelta più immediata che si possa fare Considerando che Non ho visto questi grandi colpi di calcio mercato d'estate Figuriamoci a gennaio Gaston Pereiro deve essere convocato E deve giocare nel secondo tempo Per forza E deve subentrare assieme a Pavoletti Se vogliamo avere qualche chance di fare bene contro il Bologna Perché altrimenti in attacco Cosa facciamo? 90 minuti con Petagna Che ripeto non fa gol neanche con le braccia Neanche con le mani Nonostante io non critiche Petagna Perché Petagna è un giocatore Ad esempio in un 4-5-1 farebbe benissimo Ecco adesso Adesso vi ho Claudio Ranieri Se stai guardando questo video Prendi carta e penna 4-5-1 contro Bologna E si va a sbancarla Detto ciò C'è anche Jacopo De Zogus Tra l'altro però Jacopo De Zogus E' infortunato anche lui Si è allenato a parte Oggi non si è allenato col gruppo E quindi Vanno valutate anche le sue condizioni Ma lui non ha fatto neanche una presenza Quindi suppongo che Che non sia Al centro del progetto di Claudio Ranieri Ecco Ancora meno di Gaston Pereiro Nandez Ragazzi Proprio una cosa Rapida Due minuti Ve la dico così Il post Strappa lacrime Di Nandez L'ho già visto L'ho già visto Con Belanova L'ho già visto Con tanti altri Ciarlattani Che Che sperano Di Commuovere Tutti i tifosi del Cagliari Poi commuovere Buona fetta Magari Tifosi che si sono affezionati A te Però Cioè Sono cose già viste Ma non solo nel Cagliari Anche nel mondo del calcio Ma secondo te Nandez Vuoi prenderci in giro Dicendo anche Mettendo like E commenti Dove Dove criticano Il tuo procuratore Se Tu fossi contro Il tuo procuratore A quest'ora Saresti già Col rinnovo di contratto Del Cagliari E col procuratore Sfanculato Altrove Che torna A calci nel culo In Uruguay Cosa che non è successa Perché Pablo Bentancur Continua a parlare Continua A prendere Legnate Da altri dirigenti Come Marotta E l'ultimo esempio In cui lui Pablo Bentancur Disse L'Inter È interessata Stiamo trattando Con l'Inter Beppe Marotta Ha detto No io in realtà Non sto trattando con nessuno Non sono interessato A Nandez Proprio figura di merda Colossale Ma questa Ve l'avevo già detto E l'avrete già Sentita e risentita Cosa bisogna dire Un posto strappalacrime Dove dice Io fino a quando Non sarò al Cagliari Darò il 100% Non si sa Il mio futuro Se rimarrò a Cagliari Se non rimarrò Potrei decidere Di andarmene a giugno Oppure potrei decidere Di rimanere a Cagliari Per tutta la vita Questo dipende Dalle offerte Che non hai In questo momento Ed è stato così Da quando Pablo Bentancur Ha iniziato a parlare Cioè da quando Tu sei al Cagliari Perché Era ovvio Che il Cagliari Fosse un trampolino di lancio Poi che tu ti sei Fidanzato Qua in Sardegna Che la tua ragazza Sia sarda Non me ne frega niente Il discorso Non cambia Il discorso È sempre lo stesso È inutile Che Dici che sei legato Al Cagliari Di qua e di là Quando la prima occasione Che avresti avuto Te ne saresti andato via Tu hai rinnovato Col Cagliari Decenni fa Perché non hai mai avuto Un'offerta di trasferimento Ufficiale E concreta E continui A non averla La speri Cerchi di ottenerla Facendo parlare Il tuo procuratore E tu facendo il finto tonto Perché Lo so Cioè È scontato Perché altrimenti Ripeto Ci sarebbe stata Una Recessione contrattuale Tra Nandez E il suo procuratore Se il procuratore Di Nandez Dice certe cose E Nandez Si sta zitto Chi taccia consente Vuol dire che Nandez È d'accordo Con quello che sta dicendo Il suo procuratore Quindi è inutile Che fate passare Nandez Come l'agnellino Indifeso Perché Il procuratore Dice certe cose Quando Nandez Vuole restare al Cagliari Sono tutte stronzate Ragazzi Svegliatevi E aprite Il cervello Aprite il cervello Perché Non è possibile Che Ce l'avete Di fronte agli occhi E semplicemente Fate finta di niente Nandez Nandez Ha ricevuto Tanti di quei consensi Come ho scritto ieri Nella storia su Instagram Che Un Alessandro De Iola Non l'ho mai ricevuto Eppure Alessandro De Iola Penso che ci metta Anche più impegno Di Naita Nandez Perché è questo Che gli dite sempre Nandez si impegna Nandez si impegna Non mi pare che Alessandro De Iola Non abbia mai sudato La maglia Solo che Alessandro De Iola Qualitativamente parlando È meno tecnico Di Naita Nandez Ma Naita Nandez Ragazzi È da due anni Che non si sta impegnando E voi continuate a dire Che si sta impegnando Anche contro Lecce Ma che partita Avete visto ragazzi Ma veramente Volete dire che Nandez Si stia impegnando Questa stagione E nella scorsa Ho visto sprazzi di Nandez Ma nulla più Nulla più E voi dite Che Nandez Di qua si impegna Ma cosa state dicendo Ma siete rimasti Ancora Agli anni di Rolando Maran O forse Siete al giorno d'oggi Nel 2024 No perché Magari mi viene un dubbio Che siete rimasti indietro Di 4 anni Fatto sta che Nandez La porta è da quella parte Perché Con questo post Hai dichiarato apertamente Che tu Al giugno Te ne andrai A parametro 0 Che scade il contratto È scontato Che tu voglia Cambiare squadra Però voglio vedere Voglio vedere A giugno Chi ti prende Col grande Campionato E la grande stagione Che tu pensi Di star facendo Così come Tutti i tifosi Che idolatrano Nandez Voglio vedere Voglio vedere Scontato che Ragazzi Ci metto la mano Sul fuoco E l'unica squadra Interessata a Nandez Sarà il Boca Juniors Il club Da cui abbiamo Prelevato Nandez Certo che anche Il Cagliari Comunque Veramente C'è un dirigente Più tonto Dell'altro Ma L'abbiamo pagato Una barca di soldi Nandez E invece Adesso A parametro Zero C'è una Minosvalenza Clamorosa Però Questi sono Altri discorsi L'importante E pensare Al Cagliari E da qua Basta Da qua Ragazzi Tanto lo so Che usciranno Altre cose Del procuratore Al massimo Ve ne parlerò Su Instagram Però questo È proprio L'ultimo video Che faccio Su Nandez Perché vi ho Veramente Tartassato In una maniera Allucinante In questi anni Non vedo l'ora Che se ne vada Per parlare Solamente di cose Che succedono In campo E non extracampo Perché alla fine L'extracampo Ha sempre come protagonista Nathan Nandez Per la tematica Cagliari Calcio Ecco Nandez Nandez Mi fai Venire la testa Così Mi fai venire La testa Così